Ciao a tutti, questa è una veloce recensione della Flushifilm Z10FD. È una camera compatta con un sensore da 7.2 megapixel da 2,5 pollici. La memoria interna è da 54 megabyte, si possono inserire schede fino a 16 gigabyte e supportate le schede SD. I video li fai in AVI, per il resto scatta solo in JPEG, è impossibile che scatti in RAW. Poi mantieni da 7 megapixel, da 4 megapixel 2 e 0.3. La focale è equivalente a 35 mm, sarebbe 38-114. Lo zoom non è neanche male, è abbastanza fluido e veloce. La particolarità di questa camera è che l'obiettivo non sporge, è molto piccolo ma comunque non sporge. Resta dentro la camera per qualsiasi operazione. Per aprirla e chiuderla si fa così, si spegne e così si accende. Questo è il flash. Il tasto di scatto è posizionato sopra, qui c'è il gancetto per non perderla, l'attacco del treppiede, qua c'è la batteria e anche l'SD che adesso manca. Lo schermo non è molto definito, i comandi sono parecchio intuitivi, è molto facile usare questa camera. Questo è lo zoom, proviamo a fare uno scatto di prova. Grazie a tutti.